Ciao a tutti, oggi parleremo insieme di un nuovo prodotto di Le Linea Arie di Abete, che è il Balsamie. È un miele, col suo interno troviamo la propoli, ma anche degli oli essenziali puri, attivi e 100% naturali, tra cui l'olio essenziale di timo, menta piperita ed eucalipto. Fa un'azione balsamica, emolliente linitiva sulle vie respiratorie, dunque le mucose del cavorale, aumenta la funzionalità delle vie respiratorie, nonché ha un'azione di andare a migliorare la fluidità delle secrezioni bronchiali. Come dosaggio sono due cucchiaini da caffè al giorno, con un apporto tale di 14 grammi, che è il dosaggio massimo giornaliero, sciolti in un po' d'acqua calda oppure nella bevanda calda preferita. Per i bambini consiglio un cucchiaino, proprio per la presenza di oli essenziali puri al suo interno.